buongiorno e benvenuti in valigieri ambrosetti io sono michela e oggi vorrei presentarvi la nuova collezione sveva bag orciani autunno inverno 2018 la prima grande novità è sveva bag in versione media adatta a tutte le fisicità è perfetta per la donna che non vuole una borsa ingombrante ma comunque capiente sveva realizzata in una morbidissima pelle made in italy si può portare a mano abbraccio o a spalla regolando in lunghezza la tracolla sveva inoltre possiede un taglio sopra la patella per poter accedere direttamente all'interno della borsa sveva è tutta completamente foderata e dotata di due ampie tasche di cortesia più una tasca con zip si chiude con un bottone automatico la creatività orciani non ha limiti e anche per questa stagione sveva viene presentata con diversi tipi di pellami e bellissimi colori venite in valigieri ambrosetti e scoprite sveva ethnic velvet con rifiniture e intrecci in velluto sulla patella in pelle stampa cocco sveva diamond in vero pitone e sveva soft line con profilo in velluto e pompone in pelliccia e ora lasciatevi stupire dal mondo di sveva bag in valigieri ambrosetti e sullo shop online in valigieri ambrosetti punto it in valigieri ambrosetti a Grazie.